Ringrazio il consigliere Bordoni dell'interessamento e credo che sia giusto che tutti i partiti, i movimenti che sono all'interno di quest'Aula mettano attenzione al problema di Castelfusano e agli incendi che in questi giorni abbiamo visto. Ancora oggi la situazione è precaria perché continuiamo a vedere atti dolosi che continuamente vengono riproposti per cui io credo che questa amministrazione Roma debba dare un segno importante alla città a tutela proprio di un bene comune come la prima di Castelfusano. Quest'amministrazione ha previsto all'interno del bilancio per la riserva naturale statale del litorale romano uno stanziamento di 787 mila euro, soldi che andranno e verranno spesi per questa problematica. Per quello che riguarda il bilancio sono stati previsti quasi 4 milioni di euro per il verde. L'impegno di questa amministrazione è di superare anche la cifra che il consigliere Bordoni ha previsto all'interno dell'emendamento di un milione di euro perché questi soldi del verde potranno essere spesi giustamente per risolvere problematiche intorno all'incendio di Castelforsiano. Per cui io chiedo un atto di responsabilità all'Aula in questo senso e un percorso comune che è quello della risoluzione del problema e di cercare in tutti i modi di fare in modo che questo non accada più a Castelfusano e in tutta la pineta. Per cui chiederei al consigliere Bordoni un atto di responsabilità insieme a questa maggioranza, insieme a tutti gli altri consiglieri ritirando questo emendamento e impegnandoci insieme, insieme anche all'assessore che sono convinto, sensibile a questo tema a un percorso che vedrà anche in seguito nelle commissioni competenti la possibilità di destinare risorse puntuali alla problematica degli incendi a Castelfusano. Grazie.